La breve pillola del lunedì dove facciamo una video analisi e parliamo di una nuova foto quindi in questo caso abbiamo il nostro amico Donato, il Folletto di Cioccolato quello che ho soprannominato io Donato è un soggetto appunto di cioccolato fotografato qualche tempo fa e visto che ho ripostato questa foto nell'ultimo periodo alcuni di voi mi hanno chiesto come ho realizzato questo effetto bocca dietro in che modo si fa, se ci sono delle cose un po' più semplici da fare se è troppo difficile, una serie di domande legate a questa situazione quindi ho deciso di fare una video analisi di risposta perché come faccio sempre per non rispondere a una persona sola e quindi poter aiutare una sola persona magari lo faccio in maniera pubblica così da poter aiutare a quante più persone possibili se non hanno mai realizzato uno scatto del genere beh allora la prima cosa che vi posso dire è che questo è un caso nel senso che non c'è una sola regola per poter sfocare e fare questo effetto bocca perché voi lo sapete benissimo se fotografate, fate street photography o comunque paesaggistica o anche ritratto lavorando poi con una grande apertura del diaframma con un'ampia apertura del diaframma e scattando sul soggetto principale se avete delle luci quali magari lampioni stradali o luci in questo caso come addobbi natalizi si formano le cosiddette lamelle questo effetto bocca che in base alla quantità di lamelle del vostro obiettivo fanno i lati questo era un vecchio obiettivo pentacon il pentacon 135 lo ricordo ancora ma forse ce l'ho ancora da qualche parte che usavo con la Canon 7D quindi avevo comprato l'adattatore con l'attacco Canon e l'ho utilizzato per fare questa tipologia di diffusione di bocca perché a differenza di altre situazioni dove magari il bocca si vedeva più morbido quindi rotondo, decisamente morbido in questo caso volevo qualcosa di più netto mi piaceva di più l'idea anche per fare qualcosa di diverso vedete che poi quelle più indietro sono un po' più morbidi perché sono più lontane come l'ho realizzato? allora, innanzitutto vi dico il metodo purtroppo non mi posso far vedere il set perché è una cosa veramente di tempo fa e non ho più nulla di queste cose però può essere interessante servire a qualcuno allora, inizialmente ho pensato all'illuminazione frontale quindi all'illuminazione del soggetto non mi sono preoccupato della parte dietro dietro inizialmente non avevo le luci natalizie avevo semplicemente il fondale il fondale era una vecchia insegna arrugginita e io ho utilizzato la parte posteriore quindi l'ho girato, l'ho messo, l'ho posto dietro e l'ho utilizzato come sfondo perché mi piaceva, restituiva questo calore questo colore marroncino particolare e quindi l'ho mantenuto quindi inizialmente ho lavorato con l'illuminazione del soggetto in questo caso flash perché all'epoca non usavo ancora i led flash laterale a sinistra con un softbox da 60x90 abbastanza semplice quindi illuminazione solo dalla sinistra senza nessuna illuminazione a destra anzi addirittura probabilmente avevo messo un pannello nero per aumentare questa parte qua che è la parte dell'ombra questo muschio muschio che ho comunque recuperato nei boschi con questo ceppo e questa era l'illuminazione frontale una cosa decisamente semplice luce morbida diretta solo dalla parte sinistra con una schermatura diciamo di cartoncino nero la parte successiva è stata mi ricordo perché adesso vado a ricordo con una serie di prove quindi io inizialmente ho scattato così poi ho aggiunto le lucine però scattando con un unico scatto non venivano così non venivano così interessanti allora ho deciso di creare una doppia un doppio scatto quindi un multiscatto allora ho fatto prima lo scatto iniziale senza vediamo se riesco a farvelo vedere ma ho paura di no perché la parte di sotto non ce l'ho più del livello iniziale comunque io inizialmente ho fatto lo scatto solo con la base col background così poi successivamente ho aggiunto le lucine e ho lavorato con un secondo scatto per creare questa sfocatura quindi ho mosso il punto di fuoco sfocando chiaramente anche il nostro amico Donato e ho creato questo background quindi tutta questa parte sfocata compresa quella delle lucine fatto questo ho preso i due scatti li ho poi mascherati e li ho uniti insieme tant'è che adesso andandola a rivedere vedete che poi le analisi servono sempre vedete che tutta questa parte destra non è poi così ben mascherata vedete che qua c'è tutta una parte bianca e quindi siccome questa è di molti anni fa è bene fare attenzione quando fate cose del genere io non l'ho rilavorata molto però vedete che qua c'è una parte che adesso riguardandola andrebbe rivista andrebbe rivisitata un attimino col trimbro clone per pulirla un po' e farla un po' più soprattutto vedete qua la parte del braccio comunque in sostanza sono due scatti quindi ho fatto il primo scatto pulito senza le lucine poi ho aggiunto le lucine e ho fatto un altro scatto per unire la parte di queste lucine natalizie poi fondendole insieme creando questo multiscatto diciamo che non c'è una grande complessità per questo tipo di scatto addirittura se fosse stato più spazio perché il problema è che io adesso ricordo avevo questo 135 avevo poco spazio fra donato e tutto il boschetto che avevo creato io e la praticamente questo insegna dietro e questo lucine allora cosa è successo? è successo che mettendo a fuoco donato era a fuoco non dico che era a fuoco anche le lucine ma quasi non veniva fuori il bocchetto così quindi ho dovuto lavorare con l'effetto fuoco se invece voi volete fare una cosa a scatto unico e avete in quel caso io non avevo spazio ma avendo più spazio potete lavorare con un soggetto allontanate di più quello che lo sfondo dove è possibile perché dovete fare attenzione anche a non staccarlo troppo per evitare poi dei difetti dal punto di vista dello stacco da qua alla parte frontale quindi occhio anche a quella situazione comunque se riuscite se potete staccare quanto più possibile il background ben venga perché già con uno scatto solo e con una buona apertura di fuoco di diaframma potete lavorare in questo modo però in quel caso fate attenzione perché poi non avete ben a fuoco se voi mi aprite A2.8 F2 per avere un background morbido attenzione perché poi magari come in una situazione come questa magari avrete a fuoco i piedi e un po' il naso ma la parte che è più indietro tende a essere sfocata quindi dipende anche cosa volete fare voi se volete utilizzare lo sfocato in maniera artistica e creativa allora ben venga l'importante è che abbiate le idee chiare che ce le abbiate all'interno del vostro progetto se invece non lo realizzate in quel modo e quindi non state prendendo atto di questa cosa attenzione perché rischierete di compromettere la qualità dell'immagine quindi anche del primo piano quindi occhio a questa cosa piuttosto lavorata lavorate con la doppia esposizione con la doppia con il multiscatto direi che non ci sono altre altre cose altri consigli che vi posso dare se non dal punto di vista tecnico lavorate sicuramente con la penna grafica se vi è possibile quindi con la tavoletta per mascherare quindi le due parti se fate una sovrapposizione se no se invece avete avuto la capacità la fortuna anche perché avete avuto anche spazio per poter realizzare in uno scatto solo allora non ci sono grosse problematiche perché dovete solo fare attenzione al discorso della messa a fuoco e della chiusura del diaframma comunque secondo me lo scatto migliore è farlo in due scatti quindi dedicarsi al fuoco per il primo piano e poi lavorare per il background detto questo noi ci vediamo al prossimo video con still life ed intorni alla prossima grazie a tutti